Il Consiglio straordinario sul terremoto è un grido di allarme di un'intera città. Con queste parole il Sindaco Gianguido D'Alberto ha aperto i lavori dell'assise civica programmata per oggi. Per la Regione Abruzzo era presente il Presidente Vicario Giovanni Lolli, assieme anche al Direttore dell'USR Marcello D'Alberto, fortemente contestato negli ultimi mesi. Una seduta fortemente voluta e convocata per cercare di fornire risposte concrete agli oltre 4.000 sfollati che ancora non sono rientrati nelle loro abitazioni dopo il sisma. Oggi abbiamo la fotografia di una situazione impietosa, rispetto alla quale dobbiamo assumerci tutte le responsabilità, tutte le istituzioni, a livello non solo comunale, perché il comune non può essere, visto che non ha le competenze dirette e immediate in materia di ricostruzione, l'ente, il soggetto che vive sul fronte senza poter mettere in campo strumenti operativi per risolvere un problema che innanzitutto è a livello di ufficio speciale per la ricostruzione. Lo abbiamo detto in tanti modi, il punto di snodo è l'USR, che non è stato messo in condizione di funzionare per carenza di personale, per delle procedure che non sono adeguate a rispondere alla nostra situazione. E lì va dato sicuramente un cambio di passo, va dato un cambio di passo, una riorganizzazione complessiva che passa anche evidentemente per la governance e la gestione. Le regole di questo terremoto secondo me sono regole ferraginose, particolarmente io le trovo ferraginose per quanto riguarda la ricostruzione privata e particolarmente per quanto riguarda la ricostruzione leggera. Mentre sulla ricostruzione pubblica ci sono regole migliori rispetto a quello del sisma dell'Aquila, sulla ricostruzione privata e particolarmente sulla ricostruzione leggera ci sono regole più complicate. Ad Aquila nella ricostruzione leggera dopo due anni 45.000 persone erano rientrate perché c'è la perizia giurata quando l'intervento è di 30, 40, 50, mila euro. Pensare che quell'intervento debba prima fare una preistruttoria, passare per quattro diversi uffici, per quattro diversi analisi, per poi arrivare all'istruttore vera e propria, secondo me è una cosa demenziale, proprio demenziale, perché parliamo di integrazioni 100 euro, 200 euro, stiamo parlando di cifre ridicole rispetto alle cifre che costa quella persona che non può rientrare a casa e che rimane a carico dello Stato. Io su questo insisto molto.